Ieri sera, quando sono uscito da qui, praticamente c'era un'auto che era parcheggiata qui. Io ho sentito urlare due signori che venivano dal posto e venivano verso un qua. E sì che mi sono rivoltato indietro, ho visto queste signore che praticamente una signora l'ha strappato, la borsa e questi sono scappati via di volata, ma proprio una sgommata incredibile. Quindi c'era un complice in macchina che lo stava aspettando? Sì, eh sì. Hanno scippato una ziana signora e poi si sono dati alla fuga in auto. È successo giovedì sera, pochi minuti dopo l'evento in via Trasimeno, nella quartiere di Saione. Uno scippo messo a segno a pochi giorni di distanza dagli altri due colpi che sono accaduti a poca distanza da qui, in via Vittorio Veneto. Sull'episodio stanno indagando i carabinieri, ma ovviamente cresce la preoccupazione dei residenti. Qui è una strada che è stata abbandonata da tantissimi anni, non da ore e basta. Diciamo da quando hanno fatto prima il sottopasso, poi quello, per il miglioramento. Invece hanno ucciso le nostre strade. Noi non si lavora più, non si fa più. Niente, in mano agli altri. Troppa la gente qui o me si è sperata. Anche l'altro giorno ho letto che c'era una ragazza alle 11 e mezza di sera che è stata scippata. Cioè uno non può uscire più tranquillamente come tanti anni fa. Io qualche volta mi sottoglio a passare lì a Campo di Marte, nel supermarket della droga. Si ha paura uscire la sera? Io si ha paura. Io a parte che sono 87 anni, quindi non esco manco di giorno. Però vedo che anche i giovani fanno fatica ad andare.